In un periodo in cui Freud muore, lui inizia a dipingere la madre, costantemente, praticamente finché lei poi morirà, quindi è soggetto di tantissimi dipinti. Lei spesso dorme. C'è di nuovo questa sensazione di lei che espone il seno, c'è questa grandissima intimità, si sente che non c'è niente che viene mascosto l'uno all'altro. Abbiamo anche questa dimensione molto caricata di una riflessione più di scrutinio psicologico, di questa donna che tiene questo gattino per l'incomodo, e quindi questa limbo e questa sensazione della precarietà. Questa maschera di William Blake, di cui finisce per comprare l'immagine chiave per capire questo bacon del primo momento, questa è un'opera della metà degli anni cinquanta, e la sua affascinazione per ciò che è al limite tra la vita e la morte. Ci dà di fermare questo momento drammatico che poi la pittura gli permetteva di rivitalizzare. Attraverso l'uso di questo cerchio crea questa idea del pubblico circolare, e di nuovo questi sono tutti strumenti per isolare e creare una presentazione più creativa. dell'uniliśmy, essere da unaання di chimica per ciò che è stato da coloco della vita. E la sua riflessione è stata mescolta.